Dove un fascismo, non è detto che sia identico a quello, un fascismo, cioè un nuovo verbo, come quello che amano i nuovi fascisti in Italia, cioè non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo gli stessi diritti, alcuni hanno diritti e altri no, dove questo verbo attecchisce, alla fine c'è il lager, questo io lo so con precisione. E non mi stanco di girare le scuole, dove mi chiamano e non solo le scuole, per raccontarlo, fate attenzione, alla fine del fascismo c'è il lager.